Una parte delle corse di autobus cittadini è a rischio. La Iblatur, compagnia che ormai da anni effettua il servizio di trasporto urbano, nel 2015 non ha infatti ricevuto nessun pagamento da parte del comune per le linee di competenza dell'ente e minaccia di interrompere il servizio a partire dal prossimo 7 dicembre. È infatti doveroso precisare che la Iblatur serve anche alcune linee interne il cui pagamento è garantito dalla regione. In questo caso da Palermo sono state saldate alcune fatture che non comporteranno interruzione di servizio. Le linee di competenza comunale a rischio sono la numero 6, la 7 e la 8. La prima che riguarda la tratta Montecatini via Salso, mentre le altre due coprono i tragitti in direzione dei cimiteri di Marianello e dei Cappuccini. In ballo c'è anche il pagamento degli abbonamenti per il trasporto gratuito degli anziani, come d'accordo stipulato tra Comune e Iblatur. Anche in questo caso, da inizio anno ad oggi, nessun trasferimento di denaro è stato eseguito a favore della compagnia. Nel caso lo stallo dovesse permanere, gli anziani che vorranno utilizzare i mezzi pubblici dovranno pagare la corsa. Nelle scorse settimane diversi sono stati tentativi di conciliazione tra le due parti con la Iblatur, che malgrado la perdurante assenza di pagamenti ha continuato a derogare un servizio utilissimo per l'utenza non motorizzata. Un punto di incontro è stato cercato anche ieri pomeriggio per venire incontro alle legittime esigenze della compagnia di trasporto urbano e a quelle dell'utenza. L'amministrazione comunale ci ha fatto sapere che da qui al 7 dicembre verranno fatti tutti i tentativi per trovare i fondi per la copertura delle spese e scongiurare così l'interruzione del servizio per quanto riguarda le tre linee di competenza comunale. Il nuovo esecutivo ha ovviamente una responsabilità limitata sulla questione, poiché per i primi sei mesi dell'anno la città è stata retta da un'amministrazione commissariale. Ma questo non è l'unico problema. Dal primo gennaio verrà operata una rimodulazione del servizio con un'ulteriore riduzione del 15% sulle corse effettuate. Questo a causa di tagli imposti dalla regione. Pertanto, qualora il comune non dovesse o potesse farsi carico del 15% tagliato dalla regione, il blaturo sarà costretto a ridurre la percorrenza in città dei propri mezzi di trasporto urbano. Appare però chiaro che il primo problema da affrontare è quello legato al reperimento delle somme per far fronte al pagamento, quantomeno parziale, delle fatture insolute dall'inizio di anno ad oggi.